La pericolosità del luogo è nota a tutti, ma nonostante questo sono in molti a infrangere i divieti e a percorrere la lunga scalinata delle condotte. Un semplice passo falso potrebbe risultare fatale, soprattutto ai più inesperti. Ed è proprio qui alle mie spalle che nella mattinata di ieri un ragazzo di 12 anni, in gita con la famiglia, è precipitato lungo la scalinata delle condotte a montagna in Valtellina. Il percorso molto accidentato e difficile viene utilizzato per la gara del Vertical Tube. L'area è di proprietà di NLSPA e teoricamente dovrebbe essere interdetta al pubblico, ma soprattutto in questo periodo è frequentatissima da atleti e amatori. L'incidente di ieri mette in luce in modo drammatico il problema legato alla facilità di accesso all'area. Troppo semplice infatti per escursionisti sprovveduti avventurarsi lungo l'accidentato percorso che il prossimo fine settimana ospirterà la Vertical Tube. Come potete vedere alle mie spalle l'accesso alla condotta è semplicissimo, se solo volessi potrei entrare in un'area teoricamente chiusa al pubblico. Indubbiamente scarsa e pressoché inesistente la segnaletica che evidenzia i divieti di accesso alle condotte, unica eccezione da noi riscontrata nella mattinata di oggi, quella del cartello posto al termine delle tubazioni. Rimangono invece privi di avviso tutti gli altri punti attraverso i quali è possibile entrare nell'area. Sono in un altro degli accessi dell'area, qui come potete vedere il cartello di divieto d'ingresso è presente ma la rete è stata spostata e posso accedere senza nessun problema. Nonostante il sinistro di ieri le condotte non sono ancora presidiate o poste in sicurezza e chiunque potrebbe facilmente mettere in pericolo la propria vita o quella dei soccorritori. Grazie. 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 Grazie.